Salve, sono Jackie Carter, responsabile Herbalife per la formazione sui prodotti di nutrizione esterna. Benvenuti nei sette passi per una migliore cura della pelle. Non c'è niente di peggio che alzarsi con delle orrende borse sotto gli occhi. Sembriamo stanchi, stressati e più vecchi di quanto non siamo. I gonfiori sotto gli occhi possono essere dovuti a diversi fattori. La normale stanchezza può contribuire, come pure stare davanti alla tv o al computer troppo a lungo. Anche la dieta è un fattore determinante. Consumare troppo sale o bere più alcol del solito possono causare disidratazione e ritenzione dei liquidi. Altri possibili motivi possono essere dei mutamenti ormonali, legati a gravidanza e menopausa, o a fattori ereditari. La ritenzione dei liquidi sembra essere la causa più comune delle borse sotto agli occhi. Un organismo disidratato tende a difendersi trattenendo i liquidi. La zona intorno agli occhi è priva di ghiandole sudoripare e sebacee e quindi risulta più delicata e particolarmente soggetta a disidratazione e infatti di solito è lì che compaiono le prime rughe. Con gli anni questa zona delicata perde elasticità e assume un aspetto cadente. Una crema o un gel specifici per il contorno occhi aiutano a ridurre il gonfiore e la comparsa di rughe e linee sottili. Applicate con delicatezza la crema o il gel intorno agli occhi mediante leggeri colpetti con il dito anulare per evitare di tirare o danneggiare la cute. Spesso trascuriamo le labbra, mentre è importante proteggerle per evitare che si screpolino. La pelle intorno alle labbra è molto sottile ed è priva di ghiandole sudoripare e sebacee. Inoltre le labbra non hanno lo strato protettivo esterno chiamato stratum corneum e questo le rende più vulnerabili agli agenti ambientali come l'esposizione al sole. Le labbra hanno pochissima melanina e se non vengono protette a dovere possono bruciarsi. Infatti le labbra sono la zona del viso più soggetta a ustioni. L'età incide molto sulle labbra rendendole meno carnose e meno idratate. Osservatele da vicino, ci sono linee e rughe che vanno in ogni direzione. Alcune sono dovute ad azioni ripetitive come parlare e mangiare. Il lato confortante è che, anche se la pelle delle labbra è così sottile, è possibile proteggerla e mitigare i segni dell'età. Sono Jackie Carter, grazie per aver seguito il terzo capitolo dei 7 passi per una migliore cura della pelle.